Nicola, perché voi pescatori siete qui a questo incontro dedicato all'area marina protetta? Ci sono problemi per voi? Oggi noi siamo qua riuniti per affrontare i problemi della pesca nell'area della riserva marina perché praticamente siamo arrivati adesso al collasso, cioè non si pesca più a sufficienza per poter mantenere un'impresa, una imbarcazione dei pescatori, insomma le spese, perché lo sfruttamento è diventato eccessivo. Non solo da parte dei pescatori, ma anche da parte dei pescatori sportivi soprattutto, soprattutto per alcune specie, per esempio il pesce di grossa taglia che può essere una ricciola, un dentice, una cernia. Ormai la pesca sportiva ha raggiunto delle tecniche di pesca di livelli altissimi, di conseguenza il pescatore sportivo che non è un operaio ma è una persona sicuramente benestante dal punto di vista economico e può spendere sia nelle imbarcazioni sia nelle attrezzature e hanno anche troppo tempo a disposizione da dedicare alla pesca. Di conseguenza stanno ore e ore, giornate intere, nell'arco del mese giornate intere a mare a pescare e praticamente la pesca della cernia, soprattutto del dentice, della ricciola, da noi è venuta meno, insomma, perché la riproduzione non è più sufficiente a rimpiazzare quello che si pesca. Chiaramente idem succede con la pesca professionale, soprattutto i pescatori che praticano, come anche io, la pesca con le reti da posta. Le pesche con le reti da posta, ahimè, nella riserva marina sono troppe, troppe e tutto l'anno. Di conseguenza la riserva marina quella è, le reti rispetto a vent'anni fa si sono decubblicate, anche le maglie tante volte non è che c'è un rispetto, diciamo, delle maglie, ma ammesso anche che ci sia rispetto delle maglie, è proprio la quantità delle reti che sono a mare. Anche lì ci sono i pescatori abusivi e sono tanti, soprattutto nella zona di Isola Coporicciuto, ma anche a Castella, come anche a Crotone, ci sono tanti pescatori abusivi e quindi fra gli abusivi e i pescatori professionisti le reti a mare sono molto più di quelle che possono portare il mare. Allora siamo arrivati al punto che il mare si sta collassando, o si prendono seri provvedimenti con dei fermi tecnici, fermi biologici organizzati, stabiliti, meditati e preparati assieme ai biologi e all'esperienza dei pescatori, o se no il mare è buono soltanto per andare a fare i bagni ormai.